E' un torto di partita, di alto e di basso, metafora della vita, dei suoi picchi, dei suoi saliti, dei suoi discesi, ma alla fine, alla fine di tutto, c'è questa discesa che ti porta ad essere l'idea del torto 2018, il viaggio a partire, tanto, tanto tempo indietro. Tanti se capisci, a te pronto. Grazie. Io faccio una delle altre parole, sono ringraziato tutti perché è stato un torto bellissimo. Più o due o due sei? Sì, è stato molto male. Quando ti prepari un anno intero per un ambiente così, per il punto di torno, saremmo tutti dentro, per la vostra. E quello che ritrovo di quella febbre, è brutto, perché è una sentenza che ti dice, o per lavorare, è già meravigliamente tutta, penso che solo io, una famiglia che avete tanto ora, può capire. C'è tutta la tua famiglia, per di te. Io non posso farlo di ringraziare di loro, ma loro, tanto quanto tutti, chiaramente tutti, tutti quelli che vanno sul percorso, perché tutti hanno dato qualcosa. Ogni volta avevo sempre fermato, mi ha qualcosa di, mi hanno detto, basta, mi fermo. Adonass, idem, adonass, idem. Esatto, è proprio la gente dei paesi che mi diceva, non puoi, tu puoi fermarti, tanto, non farlo per noi. E' qua. Grande presto! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E poi l'ho saputo già il giorno prima, quando avevo a terra, non ho detto niente neanche a mia famiglia. Io sono venuto per me, mi sono preso una spirina in mattina, ho fatto lavorare. E ho detto, vabbè, pazienza, vedremo così fuori. Io sono tanti, non ho parola. Io devo ringraziarvi tutti per te, mi avete dato veramente tanto.